un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su bitiros forse per il primo vero video che faccio su bitiros in quanto quello precedente era stato per lo più di invito alla gilda gilda che voglio interamente salutare tutti quanti che sono oltre che fighissimi tutti quanti pazzetti anche fortissimi gilda appena iniziata neanche una settimana e già comunque siamo messi benone chiunque voglia il benvenuto sta anche per iniziare un evento e penso che il video lo posterò oggi stesso in questo video che cosa volevo fare oltre a salutare la gilda andare a provare ad andare avanti un pochettino io sono arrivato praticamente alla quarta zona ma sono riuscito a superare soltanto il primo quindi volevo provare a cimentarmi in quest'altro anche perché da ieri ho fatto un paio di livelli e ho preso qui il rel fortissimo oltretutto non mi vorrei sbagliare ma adesso il primato è di reels perché ne ho catturati un bel po quindi a 100 150 e 83 mettiamo lui per la prima volta al posto di bubo e ovviamente questo è più forte lo teniamo in mezzo e andiamo tolgo l'automatico perché qui beh l'automatico magari fin fin quando non individua le insomma i mob da andare attaccare allora ci prendiamo una caterva di danni qui poi inizio subito a curare faccio arrivare sempre tutti quanti e la cura già sto straferito già sto straferito vado a metterlo al momento dietro mi busco qualche colpo io potenzio la cura e gliela vado a dare intanto mazzate potenti potenti facciamo così curiamo si curiamo anche qui me stesso curiamo me stesso e giù di auto attack carichiamo un po la furia e questo primo ce la siamo cavate anche se non proprio benissimo speriamo di riuscire ad arrivare allora vediamo un po andiamo avanti di qua cosa capita oggetti niente di che sarà su o giù secondo me è qui dai proviamo ad attaccare i topi proviamo di topo allora qua qua direi che mi rimetto dietro e curo cura potente su lui auto attack topi bei danni ancora auto attack qui ci togliamo di mezzo un nemico potenziamo la cura curiamo ancora ecco i ragazzi questi cazzo di topi fanno un male cane quindi facciamo così proviamo a sciottare questo qua per pochissimo per pochissimo rimettiamolo dietro un attimo questo ottimo siamo tolti quello con forse l'auto attack che faceva meno male di tutti andiamo a curare aia che male auto attack non riesce ruba vita qui prova a sciottarlo un po niente devo devo al momento mettere avanti un attimo lui e curiamo me stesso e qui ok anche questo è fatto stiamo subendo non poco nel caso userò qualche pozione chissà sto andando bene da questa parte però per usarla faccio prima morire direi metti e troviamo un totem che ne so ok era la stessa cosa praticamente se andavamo sotto è collegato allora cura cura lui poi anche tu cura diamo di attacchi normali sul primo fino a toglierlo di mezzo qui direi di in questo caso togliere di mezzo oh peccato va bene auto attack potenziamo la cura su di me a che male che male facciamo così così e curiamo lui qui niente dobbiamo assolutamente per esempio pozione lui uso il 60 per cento sperando che basti che perché lui se schiatta 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 quindi dagli da un 60 per cento glielo dom dai ok e facciamo così peccato curiamo e direi di togliere di mezzo un attimo lui qui anche potenziamo la cura un attimo usiamo qualche turno per per curarci ok va bene superato anche questo superato anche questo ci prendiamo quest'oro qui attenzione qui si va giù e qua non c'è niente quindi saltiamo momentaneamente quello andiamo di qua curiamo curiamo male cane male canissimo mi rimetto un attimo avanti e curo botte da orbi facciamo così facciamo così ah malissimo 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 mi sposto un attimo e mi curo vediamo un po quante botte ci prendiamo un po di cure facciamogli buscare qualche altro colpo sperando che non me lo falciano ok allora allora curiamolo a tristissimo tristissimo questa storia davvero bruttissima curiamolo un po profitto per dargli un po di cura ma siamo messi davvero molto 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 male quindi lui non non lo possiamo resuscitare eh provo 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 che provo niente provo niente vado un po giù magari becco il tesoro e quindi è l'ultimo questo è l'ultimo ci vado allora di pozione adesso 60 anche se in due ho fortissimi dubbi e 40 in due ho fortissimi dubbi ci proviamo ci proviamo vai rip allora rip provo a togliere di mezzo un nemico allora adesso dobbiamo proprio eliminarli subito dai curiamo attenzione potenziamo la cura no curati dai mamma mia ce la potrei fare però eh ce la potrei fare quasi sicuro ce la faccio sì sì top 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 ho ripulito questo dungeon sei sicuro di voler uscire sì per fortuna ce l'ho fatta ne ho sbloccato un altro che non penso di di riuscire a superare adesso però lo porterò indubbiamente in un prossimo video quindi saluto ancora tutta la gilda dei camaleoni e vi rinnovo l'invito se volete entrare anche voi l'invito è per tutti i nuovi giocatori in quanto la gilda l'abbiamo appena fatta però chiunque si voglia unire è il benvenuto e con questo è davvero tutto saluto tutti anche gatz che mi ha convinto a provare questo gioco e lasciate un bel like se vi è piaciuto io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao